ci siamo? sono un po' che abbruggiato allora vado io di qua dai dico Armando Maraduno è stato mi sembra che sei un bello porcellino bello, ma tu corri? no lui non corre neanche, lui rotola rotola sono riuscite a trovare un panino nord va bene, questa musica dà meno fastidio sottofondo, molto sensuale vai stellato quando sei pronto no, la canzone no, digli vabbè, non si sente poco Susanna Messaggio, parliamo di Advantix Runnix Advantix Runnix, scusa, sbagliato buona la seconda niente da bene vai buona la seconda buona la seconda